Sono Domenico, come sai la nostra situazione, io sono imbarcato sul costa di Adema. Siamo partiti da giorno 13 dal porto di Dubai per arrivare giorno 5 nel porto di Savona. Giorno 13 dal partenza abbiamo sbarcato un membro dell'equipaggio positivo al Covid-19. Poi abbiamo passato lo stretto di Suez, subito dopo ci siamo diretti verso l'isola di Cipro per sbarcare un secondo equipaggio, anch'esso affetto da Covid-19. Tutti e due sono stati casi accertati da Dampone. Dopodiché siamo partiti da Cipro, abbiamo proseguito la nostra traversata verso l'Italia, passato lo stretto di Messina dalla nostra società che sta facendo di tutto per aiutarci, per farci entrare in un porto, ci è stato dato l'ordine di dirigerci verso Gioia Tauro per far imbarcare un altro dottore a bordo, in quanto siamo rimasti con un solo dottore. Arrivati fuori il porto di Gioia Tauro ci hanno fatto aspettare più di due ore per negarci appunto l'imbarco del dottore. Dopodiché ci siamo diretti a Civitavecchia dove hanno detto che forse ci facevano entrare. Abbiamo fatto una giornata e più a girare davanti al posto di Civitavecchia. Dopodiché la compagnia è arrivata in ordine di andare via e dirigerci a Massiglia. Io quello che voglio denunciare è lo Stato italiano, in quanto noi siamo una compagnia con bandiera italiana. Quindi la nave è il territorio italiano. A bordo ci siamo gli italiani, più altre nazionalità. Noi l'unica cosa che chiediamo allo Stato è di entrare in un porto, farci ormeggiare e lasciarci lì. Noi faremo la nostra quarantena, come appunto dice il decreto del governo e tutto il resto. Però vogliamo entrare nel porto per avere l'assistenza medica.